Il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ricorda sempre di più quello tra Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi, i due infatti nella casa del grande fratello continuano a litigare per cose assurde. Ieri sera c'è stata l'ennesima rottura e tutto è iniziato per un ballo. Shaila ha creato delle coreografie e ne ha eseguita una con Alfonso, il ballo però si è trasformato nel passo a due della discordia, perché Lorenzo è andato su tutte le furie facendo una scenata alla sua ragazza. Spolverato ha rimproverato Shaila per il balletto con Alfonso ed ha iniziato a provocare la GFina, accusandola di non rispettarlo. La gatta è rimasta spiazzata e giustamente ha sottolineato di non aver fatto nulla di male e a quel punto lui è sbottato. Ascolta io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo? Perché? Esco dal confessionale e ti vedo. Perché l'hai fatto? Mi fai vedere quella scena quando esco dal confessionale. Mi stai mentendo. Un giorno riderò. Shaila guarda che io sto bene. Non sono pazzo. Non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici, smettila è il mio lavoro. Te non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffan asterisco 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 o che non mi capisci. Te ne puoi anche andare. Tu non ascolti le mie insicurezze. Tu mi rendi pesante. Queste situazioni mi rendono pesante. Io quando sono entrato ero felice e lo voglio recuperare. Ora in casa possiamo anche non considerarci. È stato bello. Finisce qui e non necessito di altro. E ora ridi? Complimenti. Ma dopo la risata sai cosa arriva? Farai i conti con quello che è successo. Ciao, rottura tra Lorenzo e Shaila. Se non ti vado bene allora ciao. Esausta della gelosia immotivata e del vittimismo di Lorenzo, Shaila è scoppiata a ridere e poi ha detto. Che bella figura, hai 12 anni. Risolviti i tuoi problemi perché ne hai tanti. Per me tu stai esagerando. Sempre la solita rottura. Io ballavo per gioco con Bernardo e poi con Alfonso. Ma che sei uno sceriffo? Tu un giorno riderai di te per queste scene. Finisce qui, io sono questa e se non ti piace ciao. Ma sei ridicolo.